Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita a Vellino Est della Napoli Bari, www.belsitohoteldueturri.it Si chiamano impianti di comunità, la regione è pronta ad acquistarli, ai comuni chiede di farsi carico della gestione della manutenzione, per l'Associazione Briganti d'Irpinia sono destinati però a fare flop. Il biocompostaggio di piccole dimensioni praticamente nasce per le esigenze di comunità che non hanno la possibilità di conferire l'umido agli grossi impianti. In provincia di Avellino ogni cittadino produce circa 100 kg di rifiuti umidi, quindi praticamente l'impianto da 50, quello da 80, da 130 servono rispettivamente per popolazioni di 500, 800 o 1.300 di abitanti. Praticamente in questo conteggio circa 90 comuni non possono usufruire di questa cosa, rimangono fuori, rimangono che potrebbero utilizzare questo sistema, 23-24 comuni per una popolazione di penso non più di 7-8 mila abitanti, che sono penso il 7-8% della popolazione della provincia. Ma praticamente che cosa si risolve? Il cittadino deve pigliare la sua busta e portarla dove ci sta a stimpianto. Praticamente che succede? E non deve stare più di un chilometro lontano dall'abitazione, questo dal delibera regionale che è stato pubblicato. Praticamente immaginiamo un paese piccolino, Chianche, Petrure eccetera, dove c'è un territorio immenso per pochissime persone, cioè non serve neanche lì, quindi praticamente secondo me non servono da nessuna parte questi impianti. Io ho qualche dubbio, penso che questo tipo di lavorazione sia stato pensato per fare il piacere a qualche multinazionale. Io ho qualche dubbio che sia fatto per il nostro bene, ma penso che sia fatto per il bene di altre persone. Quindi rivolgo anche un appello al sindaco del mio paese, io sono di Montefredene, il presidente del sindaco di Montefredene, che ho letto nelle sue dichiarazioni che dava molta speranza a questa cosa. Io penso che la speranza stavolta sia mal riposta, perché questo tipo di impianto secondo me non risolve assolutamente niente.